Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. In Fippi Lì, code in uscita alla Strassigna, provenendo da Firenze. Fino all'8 dicembre, tratto chiuso per lavori al chilometro zero della strada provinciale 224 di Marina di Pisa, nei pressi dello svincolo di via Quaglierini a Livorno della Fippi Lì, per una frana avvenuta al chilometro 79-865, proprio della Fippi Lì. Su raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano Nord e Impruneta, in direzione Firenze. Infine per i treni, fino al 30 giugno, durante l'interruzione della tratta via Reggio Lucca, i possessori di abbonamento regionale tra Massa e Pisa potranno utilizzare su questa tratta l'Intercity 501, senza sovrapprezzo. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!